popolo rosso nero amici di youtube così non va a cazzo raga così sono veramente amareggiato perché credevo di portare a casa sta partita e anche in maniera abbastanza larga invece al 93 esimo come cavolo si fa raga non ci voleva il derby in questo momento la squadra oggi cosa si può dire raga la squadra eravamo più o meno comunque la squadra di riserva quindi non ci devono totalmente cadere i coioni per terra però mi aspettavo mi aspettavo sinceramente di chiudere subito nel giro nell'andata la partita e non pensarci più ora arriviamo a giovedì prossimo dovendo schierare la squadra titolare o comunque gran parte della squadra titolare e dopo dobbiamo giocare con la roma non ci voleva il derby in questo momento una vittoria avrebbe aiutato la squadra moralmente a preparare comunque al meglio la partita contro l'inter ora cavoli allora non voglio sentire nessuno che mi scrive sotto già giochiamo così ne prendiamo 5 perché dall'inter perché oggi dobbiamo vedere la partita di oggi con l'inter giocheremo comunque con quasi tutta la squadra titolare primo tempo dalla partita di oggi primo tempo siamo partiti bene cavoli ho detto buona due fraseggi pim pum pam due gol tutte e due annullati tra cui ci stava non è un problema però c'era azione giocata bene poi finita la partita del milano finita facciamo il gol del 1 a 0 finita la partita facciamo un primo tempo secondo me dove abbiamo concesso troppo ai nostri avversari rientriamo in campo siamo rientrati bene perché comunque abbiamo cominciato a concedere di meno vacca boia facciamo il gol meritato ritorniamo in vantaggio meritatamente su rigore gol di teo hernandez poi raga mette mette fii su un calcio d'angolo che secondo me non c'era però vabbè l'ha dato ma come cazzo si fa mette ma mette non è raga mette adesso basta fii che mette non è da mila non è da mila nella primavera se ci deve essere per forza uno meglio di mette in primavera perché se non ce l'abbiamo un centrocampista meglio di mette in primavera credi spiamo la primavera perché questo qua allora un'altra cosa romagnoli se non rimasto solo io solo io e pochi altri a difenderti e adesso però basta sei indifendibile ora a sto punto io dico pioli hai visto hai visto un po' non è sereno il ragazzo contro l'inter giochiamo con kier e tomori perché purtroppo non c'è comunque nulla per fortuna ci tiene a galla con delle belle parati donna luma comunque ci sono state anche cose positive perché la nostra partita la nostra prestazione non è stata come quella con lo spezia pareggio giusto secondo me ho visto un buon calulu mi è piaciuto teo tomori buon giocatore anche lui ha fatto i suoi errori però non come romagnoli a centrocampo raga anche lì ma un giocatore ben a serma quest'anno cioè ma era pronto o non era pronto per giocare perché questo qua ogni volta che rientra si scassa per un po' di tempo speriamo che non sia nulla di grave speriamo che sia uscito precauzionalmente non sono per nulla contento raga no vabbè entra sandro tonali spero che stia bene perché non vorrei vedere il derby come te come te che non va bene neanche a stendere i panni alla moglie non va bene quindi allora spero vivamente che stia bene comunque con tonali in campo siamo andati meglio che con ben a sé perché bisogna dire le cose come stanno è giustamente è fermo da tanto tempo è giù in una valle ragazzo castiglieco non male comunque solo ha fatto rebic per noi è importantissimo giusto che abbia giocato che abbia preso un minutaggio così come mazzucic perché si vede che è sotto tonno doveva giocare ha giocato non ha combinato chissà che cosa meglio sicuramente nel primo tempo che nel secondo però ragazzi sono allora fino al 92 stavo dicendo me ne sbatte il cazzo sono contento perché abbiamo vinto frega il cazzo come abbiamo giocato l'importante amor però cazzo il 2 a 2 al 94esimo mi ha fatto perché se facevano una bella azione non mi giravano così i coglioni ma cazzo ma per un errore con un'altra disattenzione una cosa fuori dal normale fratelli rossoneri io vedere queste cose qua davvero comunque comunque raga sicuramente il derby darà degli stimoli maggiori ragazzi ci sarà il sostegno della curva sud che ha fatto il comunicato e dice di presentarsi con le sciarpette bandierine e tutto quello che è mila per sostenere i ragazzi quindi tutti uniti in questo momento che chiaramente è difficile per sostenere la squadra dopo raga non ci gira neanche niente bene perché c'è anche questo da dire nel momento difficile non ti gira neanche un cazzo di niente bene comunque è ancora tutto anzi ci siamo messi meglio noi che loro perché comunque 2 a 2 noi 0 a 0 passiamo il turno è una squadrazza ragazzi una squadra che gioca con faccinelli di punta è una squadrazza quindi non lo prendo positivamente il risultato però oh quando ho assegnato quando ho assegnato l'errore di meteo ho fatto così beh incredibile neanche neanche i pulcini fanno queste però nulla raga oh ce l'hanno comprato a qualcuno piaceva io non l'avrei ce l'ha comprato per fortuna in prestito e poi a giugno comunque così è pazienza raga cerchiamo di caricarci moralmente per il derby non è sicuramente un buon momento quindi sosteniamoci a braccetto a tutti insieme boh dalle volte quando vedo partite così non ho davvero parola perché boh mi aspettavo che comunque il Milan vincesse 2 3 a 1 a 0 quello che era e si portava a casa sinceramente la sua qualificazione già adesso raga ci vediamo domani quando il mio morale sarà migliore comunque io sostengo sempre i ragazzi perché è una squadra giovane quindi una squadra giovane oggi tu la vedi così domenica ti può fare la parità della vita quindi sostengo la squadra mi raccomando sempre forza Milan iscrivetevi al canale pollice in su per il benzinero campanella d'aggiornamenti sempre forza Milan grazie a tutti grazie a tutti